Oddio doppia, doppia, doppia Questo pezzo lo mettiamo all'inizio del video e vi dico di non lasciare E di guardarci la seconda parte che è più figa Esatto Ok, quindi all'inizio del video c'è stata Bella ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati con un bello gameplay Bella Bella anche dal catarro Bella Stavolta sto a giocare io Eh sì, gioca a lui perché abbiamo capito comunque che io non sono idoneo a COD E a me mi è cagato il cazzo perché ogni volta che facciamo un gameplay deve arrivare No è una cosa assoluta, cioè nessuno ti si incula Nel momento in cui stai facendo un video si scadena il mondo No no però Guarda sto pezzo di merda Diciamo che è un bel gioco, è un bel giuoco E che Daryl, oh va però, no, mo basta E che Daryl non è buono a giocacce Ah, ah, beh Vabbè hai fatto una kill, non te vantà troppo Quindi che, diciamo un po' la mappa che cos'è, io non so che cosa sia La mappa? C'è un altro comunque dove hai sparato Ma davvero? Sì Hai visto prima quello dietro infatti e poi quell'altro Va bene Ottimo così Comunque la mappa che è, sta cosa Eeeh Oh Mamma mia che drop shot I drop shot del drop shot qua Ah ma ti ammazzano Ah ma ti ammazzano Perché cioè non ci credevo che l'hai morto per la caduta No voglio vedere che cazzo è successo Va bene Sì È chiarissima la killcam no? Una grande killcam Giusta è andata proprio così Ok Vabbè dai Questa sta laggando troppo 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 Allora Ce la facciamo a dire La mappa è Tremor Penso ormai Tremor Già avete fatto un tempo a guardarve tutto Ma è un motivo per cui si chiama Tremor Sì perché c'è sta il terremoto in mezzo a Ogni tanto c'è stanno i terremoti Vabbè Ah sì? Sì Che spettacolo Qua sta feste Eh ci credo sta a camperallare signorino Uuuuh Da ma che Cristo Uuuuh La mappa è Tremor e sto usando una cappa silenziato con caricatori commentati Valigetta Valigetta bro Uccidi i tuoi nemici da covacciato Cammina sempre a covacciato Accovacciate Accovacciate Non so se mi ha contata No non mi ha contata Oh ma avete cagato il cazzo No no Ma qua la valigetta dà sempre la stessa ricompensa No Cioè no Dà dei approvvigionamenti Allora E che Ah vaffanculo Navia più Cioè Sì a te che ti piace tanto Vabbè pensavo Dasse sempre Quel coso Ma cazzo si chiama Questo Guarda il coglione Che voleva Ah cazzo Oh Guarda la caga del cazzo No fatti basta E niente Siamo qui per proporvi Un nuovo Da ma perché Memoraga così Un nuovo contest E il contest Diciamo È veramente un contest particolare Che contest Non lo so neanche io Non lo so Dove cazzo sei Lo dico io In pratica Una registrazione Di tutte le scriverate di Darryl Non in live Che sono veramente bellissime Cioè Anche la parte video Ci sta Lei a me Sì E quindi Quindi Se volete avere Questa clip Una clip di 30 secondi Dove io ho ripreso Le varie scuole di Darryl Dovete semplicemente Mettere mi piace E No Ancora Ah beh Che cazzo Cioè E scrivere Una barzelletta La basta La barzelletta migliore Sarà appunto La vincitrice del contest E vi potrete fatturizzare E voi vi fate fagliare Che cazzo è Che cazzo è Ecco Ok Ecco Ora Darryl è il terzo E sarà pronto Sarà fare una merda 8 con 7 Ma non vedi che fanno Guarda Cioè Mi stava p'ammazzà Qua è shotta troppo Con questo god Si shotta troppo La cosa non mi gusta Non mi gusta Uh Eh Ah Sta Siste pure Ma avete rotto il cazzo Esatto Tevo giocare io Mi so Provedere Si sa Guarda che se fanno una sfida quick Eh Eh Anzi Fanno quick Piacecchino Ma non me Da ma guarda Ma che è il mondo Cioè E dai Ti rispondo alla cazzo Ti rispondo alla cazzo Chi è il primo Io No Io sono sempre il primo Sì Gli ultimi saranno i primi Quindi può arrivare benissimo Oh Oh Non l'avevo proprio visto Si è ammirizzato bene il ciccio qua Oh Mamma mia Ti giuro che se mi ammazzava Era finito Cioè Sciagallate no Ma Non riesco a capire dove rispano una avversa Ma che ne so Ma qua rispano Come gli ha la cazzo proprio Come gli pare proprio Cioè Questa mappa non mi piace Dio buono Questo qua tu cazzo stava Cioè Dio buono Si buono con Daryl Fagli prendere una cam Guarda Ma questo è Il Il lag Il Lag Oh buono È lui Io non so Vuoi uccidere qualcuno Magari Magari se lo trovo Sì Capito Ma sei pratico Di sta mappa Ti piace tanto Dai Oh l'erbetta Via l'erbetta Via l'erbetta Voglio ride Ma via da ride Non giuro Voglio ride Via l'erbetta Dove sta Comunque Giri sempre con mani Ok Quindi Vedi di piallo Almeno qua Oh che bello Fai un'incisione da sport Sporto Sporto Ti dice sporto Sshh No Sto cercando di concentrarmi Dai ma Mi stanno a togli tutti Ma che è Mi spieghi una cosa Cosa cambia Hai visto Ci stanno Te volte Che c'è Il nemico Che è un cerchietto vuoto E un cerchietto pieno Senza un pallino Oppure un cerchietto vuoto All'interno Dove sta Che cambia Eh Ma dove stavi tu Dove Che cambia Il cerchietto vuoto E quando non sta Sul tuo stesso piano Ah nel senso Sta più alto Sì Ah capisco Capisco Sarà andato Quello Pocchio ce l'hai dietro Mamma mia Te ce l'ho Sto sclerando troppo Ce n'è sempre uno dietro Ricordati Eh 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 C'è Vabbè Non ho parole Non ho parole Ma come si fa Eh Però almeno la cosa bella è che Eh Eh Ma tu cazzo stava Sempre lei Sempre lei Mamma mia Che pro play hai là Pro playera Eccola Eccola Tanto se devi comprare una console nuova Rompe i joystick Così Oh ma è cagato il cazzo Coppia E va bene vai Mo' è carico Mo' è carico Io rappresento il popolo No Il popolo Il giocatore meglio di God Ecco cosa rappresento È lui È lui È lui o non è lui Va a prendere la bandiera neutra Ci si fionda Dai ecco la game A tre Vai Guarda Almeno metti da paro Stai tre cio e quindici Te mancano due uccisioni E ti metti a paro Anzi tre Perché poi se ti ammazzano Vai e sedici Ecco l'hai visto eh L'hai visto eh Dove si è Eccolo No non sparare prima Spara adesso Eh 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 guarda è l'ag Prendila 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 Che devi fa Colpa la testa Dai Se può fa dai Colpa la testa Devi attacco game Pavorandome Ma che cazzo stai dicendo Vabbè si Ecco la provvigionamento No Solo su strike zone Ah solo su strike zone Ah Capisco E perché Boh Convista conquista Te mancano due dal cane eh Il cagnolino Fuffi Vai Mamma mia mo di giro Faccio una strage Una strike zone Oh 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 Colpa la testa Non muori Non muoio Non muoio Non muoio Mi fai colpa la testa Dai Una parola Vai vai Guarda qua No però ti cazzo Alla cazzo La cazzo La cazzo Non mi senti tanto Oh Dove sta Non lo so Fammi andare da qua Oh 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 Guarda il cazzo Se me li ammazzam Ammazzami Oh 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 Fa un culo Sempre un colpa testa Devi fare però Dai come vuoi fare un colpolo così Eccolo 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 Ma vuole Eccolo la testa E c'è anche il cane qui eh Colpo la testa Colpo la testa Direttive completate E quindi E quindi mo che devi fare Mo ci stavano qua sotto Devi buttare gli approvvigionamenti Un attimo Buttare gli approvvigionamenti È sempre lei Dai però regà A questa la salva sempre il lag Eh Gli lo metto al culo La salva sempre il lag È una cosa assurda Ma poi è È certa la cosa Cioè perché uno No Uno che non è donna Uno che non è donna Perché si fa un pg donna? Do lo butto sto coso Butto qua cazzo Vai Olè Dai Piamo questi approvvigionamenti Speriamo una bella cosa Non so la mente Quindi ovviamente Sicuro che non esce Occhio che magari Il cane 2 Si fa schiacciata Approvvigionamenti Sai che figata No Tutta cosa Che cos'è? Munizioni Dai Cane Va bene Utilissimo Cioè Naturalmente io ho già un cane Lo giusto che merisce Porto un cane Se ne fa un altro Ecco Però da parte mi ha aiutato Se vuol dire che mi ha aiutato Diciamo di sì Comunque dai Dario si riprende qui 18-16 U 19-16 In serie da 2 Sta uscendo il partitone Sta per uscire 44 Gatti Infila per 6 Con il resto di 2 Come cazzo fa a sparare così poco O ammazzare così velocemente? Vai vai Sta qui eh Io lo so che sta qui Ma il tuo cagnonino Non è che fa qualcosa di più buono Tipo andare da un'altra parte E' certo Move chi cazzo vuoi? Linebot pure? Ah beh però Sarebbe più utile Si butta non si scheggia niente Do sta? Non ne ho la più parola di terra Eccolo Ole Ma una volta che la valigia Mamma mia dare il ragazzo Non c'è più nessuno la puoi riprendere Non lo so Non lo so Sta sopra Ma va fa un culo Se stava sparare fra di noi Cioè resta rende conto La puoi riprendere? Che squadroni è? Grazie per la risposta Che cosa? Non ti stavo sentire? Stavo concentrato? L'ho appena ripresa Quindi la puoi riprendere Devi Da straiato Non ci fa un cazzo Straiato vai Straiato Ah famo subito Vai Falla subito va Vaffanculo Cane de merda Vai 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 mi bruto in occhio Oh Ole Vai Apro Mamma mia Oh è uscito un partitone alla fine Apro Apro Vai prima che finisce Sì proprio così Random Sì È uscito un partitone alla fine Non vorrei di niente Sì ma li devi prendere gli approvvigionamenti Un attimo Dammi il tempo Un attimo il cazzo Ma arriva la gente T'ammazza Lo vedi Mamma mia che rosicata IMS Cazzo Mettilo di panangoletto qua 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 Mo c'è sta quello che si è passata là è seccato Vai vai Tanto fallo qua sta Oh Mamma mia Mind Mind Addirittura a 9 È incredibile Maniac Mamma mia Mi ti butta al maniac Che sta a fine partita Va Fatto manda Fatto manda Su Certo su B Però vabbè È uguale Non ti muovi da qua Siamo imbattibili ormai Che è l'ind Or cane che ha ammazzato qualcuno O comunque Daryl si riprende Non ci avrei mai creduto Cioè buttano pure storta Vai 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 Andiamo a fattuto Casino Cane e maniac Bam Così No raga cane e maniac Che l'ha copiata vincente Perché sono qua Cane e maniac 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 Sì sì vai 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 così vai così Vai così Vai così Ancora Guarda se non mi ammazza questo Ancora Il cane Vabbè ok Che ha copiata vincente ragazzi Cane e maniac Ha indopore Quindi Da paura Ma che cazzo Ma come ho fatto a mazzate Vaffanculo Possiedi già un cane E perché io se voglio due cani Stiamo in Cina Che poi fa un figlio solo No ci stiamo Ma ancora No vedi quello blu Ah giusto Vabbè tutto blu è qua Alla fine Daryl ha fatto un partitone Eh sì Ha fatto una bella partita Dai Quindi E da apprezzare Oddio doppia 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 Questo pezzo lo mettiamo all'inizio del video E vi dico di non lasciare E di guardarsi la seconda parte Che è più figa Esatto Ok quindi all'inizio del video ci sarà Va bene Quindi ora avete sentito prima Lo sentite anche adesso Ok vabbè basta Ciao Siamo alla prossima Bella Bella Ma lei il chiamo ci saprà Ci bella Bella